Le note del silenzio suonate dall'allievo del liceo Gropius, Michele Di Donato, danno là alla scopertura di una targa dedicata alla memoria delle foibe e di una pietra d'inciampo per ricordare le vittime della Shoah. Ma qui non si tratta solo di commemorare il passato, ma di applicare la lezione al presente. Sì che insomma le nuove generazioni possiamo lasciare quel bagaglio, immaginiamolo così, un piccolo zainetto da poter portare sulle spalle a memoria, a ricordo e da poter sempre arricchire ed integrare. L'iniziativa è una collaborazione tra Consiglio della Regione e Prefettura di Potenza indirizzata soprattutto ai giovani perché non si abbassi l'asticella dell'attenzione. Pensiamo alla condizione delle donne in Afghanistan, alla situazione in Ucraina, a tanti fronti di guerra aperti. Domanda ogni anno che passa, gli eventi sono sempre più distanti nel tempo, ma allora al di là dei libri di testo, sono accadimenti che rappresentano ancora un qualcosa di reale per i giovanissimi? Nome e cognome? Andrea Orienta. Dove studi? Dicio Scientifico Galileo Galilei. Quanti anni hai? 19. I fatti che commemoriamo oggi sono sempre più distanti nel tempo rispetto alla tua generazione o alle prossime generazioni. Significano ancora qualcosa per te? Assolutamente, noi abbiamo il dovere sempre di ricordare e soprattutto di studiare gli eventi, anche quelli più tragici della storia, per evitare che si ripetano in futuro.